benvenuti in questo nostro nuovo video questa settimana torniamo su consulti approfondimenti legati alla transizione 5.0 in modo particolare andiamo ad affrontare la tematica dei controlli ora in linea generale come sappiamo il credito d'imposta si qualifica come un'agevolazione tributaria automatica in cui l'erario comunque gli organi competenti fanno affidamento anzitutto sulla correttezza da parte del contribuente di gestire il proprio credito rimandando esposta attività di natura accertativa su questa falsa riga si colloca anche il piano transizione 5.0 in cui il GSE coordinandoci ovviamente con il ministero dell'agenzia delle entrate pone in estra una serie di verifiche documentali di controlli in loco al fine di verificare la corretta messa a terra dei progetti di innovazione e naturalmente verificare il mantenimento degli investimenti per i cinque anni successivi alla data di erogazione dell'ultima agevolazione ora a fronte di questi controlli naturalmente i soggetti beneficiari sono ottenuti o temporale ad una serie di oneri documentali innanzitutto devono conservare tutta quella documentazione necessaria a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili e quindi da questo punto di vista fatture DDT ogni altro documento legato all'acquisizione di questi beni deve contenere l'espresso riferimento alle disposizioni di cui appunto la misura agevolativa in rassegna altro onore documentale molto importante la certificazione contabile quindi le certificazioni ex ante ex post attestanti il risparmio energetico e poi in caso di formazione 5.0 le imprese sono ottenute a conservare tutta una serie anche qui di documenti ossia una relazione redatta dal soggetto formatore esterno che deve illustrare le modalità organizzative il numero di ore il periodo di riferimento il numero dei discenti coinvolti il contenuto delle attività didattiche quindi la documentazione appunto contabile amministrativa i registri nominativi sottoscritti dal personale discente e dal soggetto formatore esterno e poi un'attestazione legata all'effettiva partecipazione che viene resa mediante di san da parte del legale rappresentante dell'impresa quindi i diciamo i controlli posti in essere dal GSE riguarda che cosa la sussistenza quindi di tutti quei requisiti tutti quei presupposti previsti appunto ecco dal decreto transizione 5.0 e poi naturalmente la congruenza fra i risparmi energetici certificati nell'ambito appunto della certificazione ex ante e quelli poi effettivamente conseguiti a seguito della concreta messa a terra del progetto innovazione che vengono appunto certificati ex post ora chiudendo per quanto riguarda le modalità di svolgimento appunto di questi controlli naturalmente il soggetto beneficiario ha diritto di presentare tutta una serie di memori scritti documenti rispetto ai rilievi che vengono evidenziati nel corso della attività accertativa il termine di conclusione appunto del procedimento è fissato a 180 giorni salvo casi di maggiore complessità e si chiude naturalmente con l'adozione di un atto espresso e motivato sulla base delle risultanze raccolte nel corso dell'attività di controllo di eventuali osservazioni anche presentati da parte del soggetto interessato. in caso di sopralluogo questo viene comunicato mediante lettera raccomandata oppure tramite PEC andando ad indicare luogo data ora nominativi degli incaricati al controllo documentazione da rendere appunto disponibile e naturalmente nel corso di questi sopralluoghi possono essere richiesti e acquisiti altri documenti schemi tecnici ogni altra informazione ritenuta utile e al termine anche qui di questi controlli viene redatto apposito processo verbale e ne viene rilasciata una copia al soggetto beneficiario. Naturalmente a conclusione di tutto qualora si rilevi l'indepita fruzione totale o parziale che sia del beneficio fiscale il GSN da comunicazione all'agenzia delle entrate indicando naturalmente tutti i presupposti i mezzi di prova a tutte quelle che sono le ragioni giuridiche tecniche che hanno portato o che porterebbero comunque la decadenza del beneficio fiscale in modo tale da mettere l'agenzia delle entrate nelle condizioni di avviare i correlati atti di recupero insomma ecco del credito maggiorato di interesse e sanzioni. Bene io vi ringrazio come di consueto e ci vediamo al prossimo appuntamento.